buonasera a tutti benvenuti a una nuova trasmissione della rubrica progetti oggi andiamo a raccontare un progetto che è appena stato cantierizzato da poco si trova a milano in zona gallaratese è una riqualificazione ma possiede degli aspetti molto interessanti questo progetto perché come andremo a vedere abbastanza innovativo per quanto riguarda tutti gli aspetti appunto legati anche all'utilizzo del bim e alla concezione della struttura di questo progetto che diventerà un edificio terziario occupato da una primaria casa automobilistica vado subito a presentarvi i nostri ospiti e inizio alla mia destra dall'architetto giuseppe tortato benvenuto nei nostri studi poi abbiamo gisella rizzi partner di fm e poi abbiamo daniele blundo project manager di texer quindi ci parlerete degli impianti e delle strutture in particolare allora iniziamo ovviamente dall'architetto giuseppe tortato abbiamo detto che un progetto abbastanza complicato per quello che vi riguarda innovativo perché avete creato un concept diverso rispetto all'esistente che vuole diventare anche iconico in quella zona di milano ecco qual è stata l'idea che che ti ha portato a pensarlo ma innanzitutto tutto nasce grazie a investire nostro comitante che che appunto è proprietario dell'edificio e che mi ha chiesto di creare qualcosa di completamente nuovo in un edificio per un che aveva bisogno assolutamente di rinascere perché il gallarattese è una zona con grande vocazione appunto alla rinascita lì vicino c'è la nuova sede di di mercedes per esempio fatta pochi anni fa gallarattese ha bisogno di qualcosa di nuovo e mantenendo le strutture esistenti abbiamo cercato di creare assolutamente un nuovo edificio un edificio che avesse però tutti quei elementi quei parametri che secondo noi devono esserci cioè un edificio innanzitutto che nasce per le persone che ci lavoreranno dentro che ha una visione appunto del benessere che deve essere trasmesso a tutti e il fatto di creare qualcosa di iconico è voluto in funzione del fatto che oggi l'utenza sente questo bisogno di riconoscersi anche negli spazi e non solo l'utenza quindi come il management ma anche chi ci lavora è una sorta di orgoglio di far parte di un team e quindi l'edificio lo spazio dove vai a vivere una buona parte della tua giornata deve offrirti tutti questi elementi la natura è uno degli elementi che noi consideriamo fondamentali e quindi anche in questo caso l'innesto della natura come elemento sempre presente anche per i lavoratori è diventato fondamentale aggiungo che l'edificio è come detto tu iconico quindi è stato fasciato da degli elementi da dei fashioni per l'appunto che hanno in parte una funzione di creare una nuova forma una parte una funzione di schermatura solare creando un edificio molto molto forte come immagine che effettivamente il mercato ha premiato nel senso che Volkswagen era questo il nome che... esatto ecco questo appunto volevo dire questo diventerà il nuovo headquarter della Volkswagen e quindi è il classico esempio in cui un brand di fama mondiale vuole anche rappresentarsi con un edificio quindi avete dovuto anche diciamo collaborare molto con il tenant e cercare di soddisfare le sue esigenze questo l'avete fatto fin da quando Volkswagen praticamente ha firmato con Investire devo dire che l'edificio è stato sviluppato nel momento stesso in cui Volkswagen ha trovato un accordo col mio committente con Investire e quindi la progettazione stessa di tutto l'edificio è stata sviluppata anche sulla base delle richieste di Volkswagen e quindi in questo momento c'è stata diciamo una corsa da parte di tutti i progettisti strutture e impianti per venire incontro alle esigenze del tenant ma soprattutto per venire incontro alle sue esigenze di tempistiche che ha imposto essere molto brevi e nel giro di 12 mesi un edificio che in realtà è 20.000 metri quindi con tutte le complessità di un edificio che viene rigenerato più che ristrutturato è totalmente un edificio nuovo in 12 mesi si dovrà realizzare questa nuova sede e in pochissimi mesi a partire da Natale abbiamo sviluppato preliminare definitivo esecutivo quindi una corsa col tempo dove il BIM è stato un elemento di ulteriore criticità nel senso che richiede molta più collaborazione con penetrazione delle varie discipline e ovviamente ci auguriamo porterà invece grandi vantaggi successivi e tutto sommato li ha già portati adesso nel senso che il progetto è totalmente controllato Ecco allora adesso entriamo nel dettaglio, chiudiamo un po' il cerchio diciamo che nell'operazione è stata coinvolta anche Prelios Agency questo progetto di un fondo immobiliare di investire a SGR quindi dovrà più o meno il cantiere terminare entro più o meno il settembre-ottobre del 2019 hai giustamente parlato della tempistica perché il talento italiano poi che va incontro anche al pragmatismo del tenant tedesco, una tempistica molto ristretta, passo la parola a Gisella Rizzi che quindi vi ha messo anche soprattutto nella fase iniziale a dura prova il vostro studio è stato impegnato esattamente in quale tipo di attività su questo progetto? Fin dall'inizio abbiamo partecipato, appunto abbiamo lavorato in approfondimento per quello che era il tema principale delle strutture logicamente anche se in questo caso specifico l'immobile è stato interessato da interventi puntuali legati alle strutture sostanzialmente finalizzati ad assecondare le esigenze architettoniche e anche di layout interno vero è che comunque è stato poi messo in pista comunque una verifica sia statica che di vulnerabilità sismica dell'edificio e quindi alla fine il complesso risulterà sicuramente più sicuro e anche sismicamente migliorato cosa che è stata possibile chiaramente perché nel parallelismo di tutte le attività ovviamente in corsa su tutti i fronti l'edificio nel frattempo è stato messo a nudo visto che appunto nonostante l'attività di progettazione fosse in corso comunque sono stati messi in pista i rilievi, le indagini quindi c'è stata anche una demolizione parziale sì, è stato ripulito l'edificio per quanto possibile e anche bonificato logicamente e fin da subito appunto uno dei fattori più imprescindibili era la clessitra del tempo logicamente che ci ha necessariamente imposto delle tempistiche molto serrate quindi dover prendere delle decisioni sia operative che progettuali in maniera molto puntuale e questo per riuscire a centrare l'obiettivo dei tempi ma ovviamente sempre tenendo in alto valore la qualità insomma che non deve essere tralasciata logicamente gli interventi strutturali sono principalmente legati alla realizzazione dei fascioni, delle facciate proprio perché le facciate sono il cuore rigenerante di questo progetto e riuscire a dare questo movimento alle facciate è possibile solo grazie appunto ad alcuni innesti strutturali che sono stati studiati, modellati, verificati e che quindi sono la parte principale per quanto riguarda l'edificio in quanto involucro ed edificio fisico logicamente la cantierizzazione è un tema che sta in parallelo proseguendo e che ha visto anticipare una serie di attività appunto di cantiere e anche di appalto proprio per riuscire a essere sempre più reattivi e pronti per quelli che sono gli aspetti legati alle facciate che in parte sono già partiti prima ancora del cantiere vero di ristrutturazione e poi a seguire chiaramente quelli del cantiere di ristrutturazione che a breve partirà a pieno regime Ecco quindi le facciate erano un tema così importante che comunque meritavano una partenza anticipata Esatto, un coinvolgimento di società esperte chiaramente di una messa in pista anticipata di quella che era la professionalità di chi le realizzerà Ecco Daniele Blundo di Texer, passiamo alla parte impiantistica Voi seguite anche quello che si dice il lead assessment Quali sono state le difficoltà che avete trovato o che state magari trovando le criticità di questo progetto che ha degli alti obiettivi come giusto che sia anche dal punto di vista lead, sostenibilità perché così si richiede anche il mercato insomma oggi Sì infatti è una richiesta ovviamente ormai sempre più permeante il mercato Quello di avere edifici ad alta sostenibilità, basso consumo e ad alta efficienza Ovviamente questo ha aumentato dalla particolare attenzione sia del committente investire e sia in particolare come citava anche prima l'architetto sul contatto con la natura Quindi l'edificio ha una certificazione lead che appunto ha permesso anche a livello di presentazione sul mercato di presentarlo ai potenziali tenant come un edificio sostenibile in particolare noi abbiamo un impianto che sfrutta la geotermia tramite l'emungimento e la restituzione di acqua di falda e questo ha permesso anche di rendere totalmente libere le coperture da impianti L'edificio esistente aveva una copertura totalmente occupata dagli impianti mentre il nuovo edificio ha le coperture totalmente libere e sono state poi utilizzate e integrate nel progetto architettonico È un edificio esistente quindi ovviamente come tutti gli edifici esistenti nella distribuzione impiantistica ha bisogno di particolare attenzione anche se essendo un edificio già progettato ai tempi evidentemente per avere impianti moderni aveva già una parte di cavè e di passaggi impiantistici adeguati Ovviamente sono stati studiati e la particolarità nei tempi stretti come diceva la collega è stata poi adattare le esigenze specifiche impiantistiche alle richieste del tenant perché ovviamente in questo caso abbiamo sviluppato già dal definitivo esecutivo il progetto con un tenant unico, appunto Volkswagen come abbiamo detto e quindi abbiamo seguito le sue, abbiamo avuto una grossa interfaccia con il personale di Volkswagen per realizzare degli impianti affidabili con un grado di, specialmente su impianti elettrici e su impianti comunicazioni adeguati ai loro standard diciamo sia di consumo sia di manutenibilità e anche di affidabilità in termini di continuità del servizio Ecco c'è un tema che ci anticipavi, passando da un multitenant a un monotenant questo sicuramente ha creato... Sì perché il progetto preliminare che abbiamo sviluppato col team di progetto prima che fosse poi assegnato l'edificio al tenant era un edificio improntato sulla massima flessibilità quindi ogni piano poteva essere diviso e poteva ospitare fino a due tenant e quindi complessivamente poteva essere anche frazionato in diversi inquilini e quindi gli impianti erano studiati con una massima modularità Ovviamente poi nel momento in cui è entrato nel progetto il Volkswagen abbiamo poi riadattato pur mantenendo comunque una flessibilità perché non abbiamo eliminato totalmente i temi della flessibilità come distribuzione quadri elettrici impianti ma abbiamo ovviamente costruito l'impianto sulle esigenze poi specifiche del cliente, cioè del cliente finale Ecco architetto, il BIM in questo caso è stato sicuramente fondamentale e lo è per poter creare un progetto dall'origine tutti insieme, quindi un progetto condiviso però è anche un BIM che andava applicato a un edificio già esistente quindi questo sicuramente ha creato qualche problema o qualche difficoltà Beh certo, diciamo innanzitutto come dicevamo è stata una bella sfida perché inserire un'attività BIM quando hai tempi di progettazione relativamente limitati dicevamo va ulteriormente a rendere complessa l'attività di progettazione effettivamente sull'esistente il fatto di inserire una progettazione BIM implica ulteriori complessità perché evidentemente devi partire da un rilievo tridimensionale nuvola di punti eccetera eccetera che è la base di tutto facevo un esempio prima quando parlavamo fuori onda che già nel lontano 2003 avevamo provato ad adottare una progettazione BIM su un edificio industriale che andavamo a rigenerare in quel caso mi ricordo che dopo aver ricevuto i disegni i disegni e comunque gli elaborati abbiamo pagato il consulente in quel caso non lavoravamo diciamo all'interno con la struttura BIM e abbiamo ridisegnato tutto questo perché comunque la rigidità che aveva il BIM a quei tempi rendeva ancora più imperio oggi il BIM ha diciamo per chi lo sa usare offre tantissime possibilità e un grande potenziale abbiamo realmente realizzato un progetto direi abbastanza unico in Italia dove l'intera filiera è BIM compresa la parte computistica quindi siamo anche orgogliosi di quello che è stato un desiderio anche da parte del nostro comitente investire di spingere su questo tipo di tecnologia non vi nascondo che il mercato italiano non è così pronto per cui anche le imprese che poi successivamente devono gestire un progetto del genere realizzato in BIM avranno tra l'altro la necessità e l'obbligo contrattuale di fare gli sbiliti in BIM vi garantisco che crea una grosso spartiacque quindi non è così banale non è così banale sì l'abbiamo visto anche insomma sul mercato che noi raccontiamo tutti i giorni si parla tantissimo di BIM però poi non è facilissimo andare a trovare progetti che sono sviluppati dall'origine fino alla fine in BIM ma anche il tenant è stata un'esigenza anche di Volkswagen quella di avere un progetto magari condiviso di poter accedere alle varie fasi progettuali di lavorare a quattro mani con voi sicuramente l'ingresso del tenant nelle fasi iniziali di progetto aiuta la buona riuscita di un progetto perché evita di fare delle scelte magari di flessibilità aggiuntive o di aspetti aggiuntivi che poi magari ai quali il tenant in qualche modo rinuncia sicuramente dialogare con loro ha messo un altro attore uno in più quindi un altro elemento da considerare nella discussione quando appunto quando si diceva modellare in BIM un esistente porta sul tavolo appunto un altro elemento di discussione cioè fin dove mi spingo a modellare cosa mi serve il dibattito diventa non solo come lo progetto ma anche cosa modello e quindi è chiaro che lavorare in un ambiente BIM non è solo un tecnicismo come dire informatico oppure un aspetto è proprio un'ulteriore modalità di pensiero e di progettazione e avere appunto al tavolo anche il conduttore che alimenta questi aspetti magari legati più alle opere che farà lui dopo perché comunque realizzerà una serie di personalizzazioni finali logicamente fa fare ulteriore quadrato su una serie di aspetti che poi devono tornare tutti affinché il cantiere come si diceva vada via completamente liscio senza intoppi insomma ecco Daniele che obiettivi avete sulla certificazione visto che seguite il lead diciamo vi siete il committente a posto qualche richiesto oppure vedrete ma allora diciamo che eravamo inizialmente partiti con un lead con Shell ponendoci un obiettivo minimo che era quello del lead silver adesso stiamo comunque valutando se si può arrivare a avere qualcosa in più perché ovviamente ci sono alcuni vincoli dovuti alla posizione tratta dell'edificio l'accessibilità e tante altre diciamo elementi che concorrono alla certificazione ecco il lead considera sicuramente immagino di sì ma è importante anche l'aspetto legato proprio anche a una qualità di chi occupa gli spazi poi diciamo in questo caso il protocollo lead in ogni caso è un protocollo di sostenibilità di certificazione di sostenibilità dove la sostenibilità riguarda in particolare ovviamente la sostenibilità in fase sia di costruzione infatti riguarda i materiali che vengono utilizzati e sia in fase poi di utilizzo dell'edificio ha sicuramente degli aspetti che vanno verso la vita quotidiana degli utenti perché prevede diciamo di dare delle facility per chi arriva in bicicletta che possa posteggiare farsi la doce spogliatoi eccetera oppure poi le stazioni di ricarica per le macchine elettriche quindi va ovviamente a ragionare sul comportamento degli utenti favorendo quei comportamenti più sostenibili ecco perché avete ricavato anche dei parcheggi ulteriori sì diciamo visto la zona che non dico periferica ma comunque con accesso attualmente un po' limitato ai mezzi pubblici il dotare un edificio del genere di un grosso numero di parcheggi è tuttora un plus effettivamente il tenant ha molto apprezzato diciamo la presenza di questi parcheggi che noi tra l'altro abbiamo ricavato in zone che prima erano depositi e questo diciamo è stato uno degli elementi chiave finché saremo obbligati a spostarci con la macchina diciamo questo continuerà a essere un elemento devo dire che peraltro si sta sviluppando un accordo con diciamo dei vicini d'area che consentiranno di accedere alla metro in pochi centinaia di metri evitando diciamo un percorso esterno quindi l'area comunque considerate che c'è il cimitero maggiore vicino è un'area che comunque ha un'infrastruttura evidentemente il parcheggio costituisce tuttora un elemento soprattutto considerate che siamo vicino all'autostrada ed è un altro degli elementi che ha fatto scegliere al tenant quella zona di facile accesso diciamo anche dal resto d'Italia ecco l'obiettivo diciamo anche dell'architetto dello studio è quello di creare qualcosa che dia valore al territorio e che valorizzi proprio anche tutto l'ambiente circostante questa è l'idea progettuale sì diciamo che questo è veramente un principio è quasi un mantra di quello che noi consideriamo la progettazione per noi le aree urbane devono essere cioè le operazioni le operazioni nel senso gli sviluppi le regenerazioni urbane che andiamo a realizzare devono essere un valore non solo per chi le realizza ma anche per chi abita quelle zone e quello che abbiamo visto che in genere dove abbiamo operato correttamente secondo questi principi non abbiamo mai avuto la lamentela di un vicino cosa che è abbastanza rara nel nostro settore e soprattutto anche recentemente a distanza di molti anni ho trovato negozianti che ci ringraziavano perché ci dicevano il mio negozio adesso tira molto di più il valore della mia abitazione è cresciuto e questo dovrebbe essere un qualcosa da considerare sempre lavorare per la comunità e questo ti porta sempre dei vantaggi bene io ringrazio i nostri ospiti Giuseppe Tortato Gisella Rizzi Daniele Blundo visto che il cantiere è appena stato avviato lo seguiremo e poi verremo a vedere alla fine quando sarà quando sarà terminato e ci racconterete un po' tutto questo questo viaggio che è appena iniziato grazie mille grazie per l'ospitalità grazie a tutti